I dubbi che nei giorni scorsi erano emersi da parte dei sindaci sul trasferimento nell'ospedale dalla provincia di Alessandro e di malati covid e dall'altra zona del Piemonte sono stati parzialmente risolti dopo un incontro fra primi cittadini e dirigenti dell'SL. Questi ultimi hanno assicurato che al momento non troverebbero alcun riscontro le loro preoccupazioni inerenti alla saturazione dei presidi ospedalieri a scapito dagli utenti alessandrini, essendo lo sviluppo del contagio più contenuto rispetto alla prima ondata. Sindaci che tuttavia non abbassano il livello di guardia in difesa dei loro cittadini dopo le polemiche nate dalla riconversione ad ospedale covid del nosocomio di Tortona e con il monsignor Gagliano di Acquiterme che ha denunciato per bocca del sindaco Lorenzo Lucchini non solo l'esaurimento dei posti covid riservati ma anche la carenza di eletti destinati ad altre patologie. Il tutto senza volerne fare una questione di campanilismi. Le rassicurazioni dell'SL tuttavia sono arrivate in un momento in cui la curva dei contagi ieri era risultata a parte l'eccezione di Ovada ancora in crescita tanto da indurre la regione Piemonte a dover aggiornare su proposta degli assessori al welfare Chiava Caucino e alla sanità Luigi Cardi le linee guida per individuare strutture extra ospedaliere che possano accogliere un eventuale maggior afflusso di colpiti dal virus. In particolare parliamo di persone provenienti dalle RSA. Si tratta di strutture alberghiere, extra alberghiere e sociosanitarie pronte ad accogliere coloro che risultassero positivi dopo i 700.000 tamponi rapidi effettuati nelle RSA e residenze per anziani, il cui monitoraggio continuerà nei prossimi giorni. I pazienti dimessi dagli ospedali potranno rientrare in struttura dopo un tampone negativo, 14 giorni di isolamento e poi ancora un ulteriore tampone negativo con test rapido. Stesso ITER per chi entra per la prima volta in un RSA. Per aiutare le strutture in difficoltà col personale, la regione negli ultimi giorni ha anche pubblicato una manifestazione di interesse alla quale hanno aderito 300 operatori sociosanitari. Ed è proprio la carenza di personale a rendere ancora più difficile la funzionalità di tutti i reparti ospedalieri, un'emergenza che parte da lontano, già dalla scorsa primavera. E ora questa nuova ondata di contagi la rende ancora più evidente, tanto da dover imporre a medici e infermieri, in attesa di poter assumere un nuovo personale, di rinunciare le ferie ai permessi per poter coprire i turni. L'ha deciso la regione con una circolare rivolta alle aziende sanitarie, scontrandosi immediatamente con i sindacati che hanno difidato le medesime a ricorrere a queste misure, penna all'indizione e dello stato di agitazione. Ci siamo sempre opposti a questo tipo di decisioni, hanno fatto sapere i rappresentanti sindacali, proprio per obbligare le aziende ad assumere in tempi più rapidi, anche perché i turni massacranti possono compromettere la salute del personale e dei loro pazienti. Insomma, i problemi che circolano intorno all'emergenza Covid sono tanti e di diversa natura, ed è impensabile che vengono risolti ora in piena pandemia, quando nel corso dell'estate poco si è fatto e con poca convinzione che la seconda ondata alla fine sarebbe arrivata davvero. Il lockdown e le zone rosse davvero potranno calmirare i contagi, punto di partenza per ristanare almeno in buona parte tutto ciò che non sta funzionando. Nella regione è proprio il presidente Alberto Ciri a puntare il dito sul mancato rispetto delle norme restrittive nelle grandi città, fra le quali Torino. Ancora troppi assembramenti, nonostante i divieti. Questo è l'allarme lanciato dal presidente, che promette controlli più intensi nel prossimo fine settimana con probabili nuove restrizioni. Le decisioni di Ciri arriveranno dopo un incontro con i tecnici del DIRMEI e dopo aver analizzato gli ultimi dati sui contagi. Sono iniziati intanto a Torino i lavori di allestimento del drive-thru, accesso auto, che ospiterà uno sport dedicato per i tamponi rapidi nasofaringei. Sorgerà presso l'Allianz Stadium.